Filippo Anders disegna il cross a Milinkovic Sovic solito inserimento fa da centramante occulto Silvestri però alza di nuovo lo scudo e tiene lo 0-0 va dentro Aleksandro Kostic, il cross il colpo di testa di Vlaovic e ancora Milinkovic Sovic para anche questa la palla è buona per Enzo là la cattura va a largo da Mian uno della Cremonese per Terra Maldini addosso al portiere arriva Ekdala sul fondo che occasione Maldini centra carne secchi Zelinski, uno contro uno punta Ferguson ancora Zelinski riesce a passare in aria Zelinski va dentro per Lozano Skorupski si supera ancora una volta e tiene Bologna in partita Castanos su di lui De Vrij Piontek prepara il tiro Onana prolunga e salva l'Inter Pasalic Pasalic al limite Lukman ancora Pasalic Pasalic consigli rimpallo ed Erlic evita l'uno a zero Tonali palla dentro per Rebic Montipò ancora Rebic la gira alta straordinario Montipò Conclusione da fuori di Martina e squarta la parata di Falcone in calcio d'angolo con la mano destra ci arriva non era una parata semplice forse in finale del Monza rimessa di Donati palla spedita in mezzo all'aria a vuoto Caldirola poi la girata di D'Alessandro e Vicario che s'allunga ed effettua la parata a vuoto che s'allunga la parata la parata di D'Alessandro